Michelangelo Uberti di Dynatrace, quali sono le sfide principali che CIO e CISO stanno affrontando e in che modo Dynatrace li sta sopportando in questo percorso? L'avvento del cloud e dell'architettura microservizi ha aiutato i CIO, ormai diventati il motore dell'innovazione in azienda, a digitalizzare molti servizi tradizionali in tempi record. Al contempo ciò ha innalzato drasticamente il livello di sicurezza. Recenti ricerche su scala globale indicano infatti che i reparti T spendono circa il 40% del loro tempo semplicemente a far funzionare le cose. Specialmente sul fronte dell'osservabilità emerge che gli approcci tradizionali e inclusi quelli fai-da-te non riescono più a tenere il passo con la dinamicità degli ambienti cloud e delle moderne architetture applicative. Complessità e velocità hanno impattato anche sui team di sicurezza. Il 67% deciso afferma infatti che non ha più il tempo di scansionare il codice prima che questo arrivi in ambienti di produzione. Come se ciò non bastasse, gli specialisti della sicurezza sono costantemente bersagliati da migliaia di alert su sospette e vulnerabilità. Questo sottrae il tempo per andare a identificare e rilevare e gestire le vere anomalie. Siamo quindi di fronte a uno scenario in cui i reparti IT sono sopraffatti da miriadi di attività manuali, ripetitive e a basso valore e da dati e informazioni non correlati che dovranno essere analizzati, andando così a erodere ulteriormente il tempo a disposizione. Dynatrace sta aiutando i CIO e i CISO a vincere la sfida della complessità, restituendo loro tempo prezioso da dedicare all'innovazione e all'ottimizzazione dell'esperienza utente. Non scordiamoci infatti che gli utenti diventano sempre più esigenti e si aspettano, per non dire pretendono, di vivere esperienze digitali più che perfette. Grazie all'automazione continua, risposte precise basate su intelligenza artificiale e osservabilità end-to-end in un'unica piattaforma, Dynatrace aiuta i reparti IT a riprendere il controllo degli ambienti più complessi e dinamici e a rilasciare software migliore e più in fretta. Inoltre, col modulo di Application Security, aiutiamo gli specialisti della sicurezza a identificare con precisione vulnerabilità a runtime e a priorizzarle in base al loro effettivo impatto sul business. Inoltre, li aiutiamo a identificare e bloccare in tempo reale eventuali tentativi di attacco e a eseguire automaticamente le più opportune procedure di remediation.